Ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo canale. Come avrete notato il nome del canale e anche il mio nickname è Dixie La Rouge, che indica un pochino quelle che sono le mie caratteristiche fisiche, quindi un po' l'esuberanza dal punto di vista del look e ovviamente i capelli rossi che non sono ovviamente naturali ma che rappresentano un pochino appunto le mie caratteristiche caratteriali. All'interno di questo canale vi potreste chiedere cosa potrete trovare. Potete trovare un po' di tutto, si parlerà di libri ma non dei soliti libri che potrete trovare all'interno delle librerie ma dei titoli che spesso non sono stati tradotti nella nostra lingua e quindi attraverso appunto questi video avrete la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo che il nostro mercato editoriale non offre appunto agli italiani in maniera ovviamente molto carina e divertente, quindi mai utilizzando retorica e cose noiose da lezione frontale. Poi si parlerà di vintage, soprattutto di anni 50, di yoga che è il mio mestiere e quindi di vita sana e in generale di tutto ciò che riguarda una condotta di vita sia dal punto di vista dell'esercizio sia dal punto di vista alimentare di tipo corretto e molto molto altro. Quindi ringrazio ovviamente tutti coloro che vorranno visualizzare questa piccola anteprima, iscriversi e continuare a seguirmi visualizzando tutti gli altri video. Grazie e al prossimo video. Ciao a tutti!